Allora, guardiamo il signor Emilio. Io ve lo dico, ragazzi. Io so come il campione, vi assicuro che è broken. Però giudichiamo. Giudichiamo assieme a voi. Allora, passiva. Fired up. Milo's abilities enchant allies on touch. Making their next damage deal a burst of extra damage and bar the target. Allora, passiva. Leona. Sottosteroidi. Praticamente le abilità che toccano... È gara. Le abilità che toccano gli alleati. Gli alleati, quindi tutti, consentono un burst di danno più un ignite. Immaginatevi Lucian. Ok. Quindi Leona sottosteroidi, passiva. Letteralmente. Q. Ultra Mega Fire Kick. XD. Il nome fa ridere. Mi sembra... Mi sembra la mossa di... Del Pokémon, il coniglio. Come si chiama il coniglio? Quello che calcia la palla di fuoco. Non mi ricordo. Allora. Milo kicks a ball that knocks back his enemy. The ball launched upward on it and falls toward the enemy. It's in the race. Bravo. Damaging and slowing enemies in the air upon impact. Allora. La Q pare essere uno skillshot. Pare. Non lo so perché non... Non so se lo fa vedere qua. Allora, non si vede se è uno skillshot. Però no K. No K stunna. E no K, scusami. Spinge indietro. Stunna. In realtà non dice che è stunna. E rallenta pure. 45 danni puri. Ah. Lol. È un pallonetto. Splomp. È arrivato Maradona, raga. Fa i pallonetti con la Q. Gli vedo già la skin da calcio. Gli vedo già la skin da calcio. Oglio, sì, sì. Spera, spera, spera. Neymar. Allora, se colpisce direttamente ti butta indietro e ti slowa. Però io qua vedo il simbolo dello stun. Quindi è anche uno stun. Vabbè. Se invece colpisce un nemico fa palombella. Fa il cucchiaio de... Fa il cucchiaio de totti. Fa il cucchiaio. E colpisce a UE. Carino. Carino come interazione. Carino, molto carino. Ah, la W è la cosa XD. Allora. Milio creates an empowering zone that heals ally and increase attack range to those insides. The zone follows the ally near to the cast point and can be recasted. Note. Riot restate attack range increases. Sì, 10-20%. Allora. Questo bel cerchio, cerchietto, oltre a curare tutti quelli che stanno intorno e dentro, aumenta anche il range dell'autoattacco. A livello 1 è 10%, a livello massimo è 20%. Sapete cosa vuol dire 20% di range? Avete una minima idea di cosa vuol dire? La cura non è tantissima, eh. Oddio. Ma in realtà, vabbè, insomma. La cura non mi sembra così tanta. Bisogna vedere un po' i numerini. Però, guarda un po'. Cioè, XD sta dalla torre, praticamente, la sta colpendo. E poi si muove. La puoi recastare. Cioè, la recasta e si muove, vedi? E, warm eggs. Milio Tossi ha scelto in ally, temporal increase in their movement speed. Questa è la skill, la Lulu, ragazzi. Questa è Lulu 2.0. Anzi. No. Questa è Lulu sotto steroidi. Sapete perché? Perché non è che ti scuda e basta. Ma ti aumenta anche la velocità di movimento. Ma non è finita qui? Lo scudo è doppio. Lo scudo ha due cariche. Ecco. R. E qua arriviamo all'XD supremo totale. Breath of Life. Milio unleashes a wave of shooting flames that heal and remove crowd control as fact from allies in range. Eeeh, un cleanse, un cleanse più IAL AOE. Molto AOE. Questo è il range. Ding, ding, ding. Tutti con questa cazzo di zonia. Questo è il range. È il doppio della ulti di Amumu. È il doppio della ulti di Amumu, sta roba. Però, se lui è stunnato o silenziato, non può usarla. Capito? È Gianna 2.0. È come se avessero... È come se tutti gli enchanter del gioco avessero fatto un'orgia enorme e avessero partorito sto bimbetto. Ora, speriamo che abbia dei numeri molto vasti. Così magari... Sai, magari dici non scuda tanto, non cura tanto. Fa un po' di tutto, ma non fa tutto quanto tanto, no? Però, se tanto mi dà tanto, conoscendo Riot, la skin è veramente orribile. A me fa veramente cagare. Sembra... Non so, sembra un folletto del cazzo. Gioca a calcio. Vabbè. Devono fargli per forza la skin calcistica, cioè per forza di cosa. Non possono non farla. Non possono non fargli una skin calcistica, cioè per forza. Devono, devono per forza di cosa farle. Non mi sembra forte. A chi lo sa? E niente ragazzi, questo era Emilio. Esce domani sera sul PBE. E lo giocheremo, ovviamente. Domani notte, verso le nove e mezza. Ricordatevi di venire in live, perché mi serve gente con cui giocarlo. Tu, tu, tu che sei qui ora, ricordatelo. Grazie a tutti.